Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi Piace e iscriviti al nostro canale. Un dolore profondo e amaro avvolge Chiara Ferragni, poiché poche ore fa è morta la sua amata Matilda. Il bulldog francese di 13 anni ha condiviso con la padrona l'intero percorso verso il successo nel mondo delle star del web, essendo stato al suo fianco ancora prima dell'ascesa globale. Anche per i seguacci dell'influencer cremonese, Matilda era ormai parte integrante della famiglia, apparendo spesso nei contenuti postati da Chiara su Instagram. Sabato 29 luglio, con un lungo e toccante messaggio colmo di affetto e amore, Chiara ha dato l'ultimo saluto all'amica a quattro zampe. Ho detto tutto ciò che volevo dirti all'orecchio in questi giorni, ma tu sapevi già tutto. In questi 13 anni insieme, sei stata la mia bambina e la mia amica, pronta a tenermi compagnia e farmi sentire amata quando ne avevo più bisogno. Il tuo abbraccio e il tuo profumo mi facevano sentire a casa, perché eri proprio parte della mia famiglia. Hai fatto ancora di più, hai creato la nostra famiglia. Eri il cane di Chiara Ferragni di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Pensi che se non fossi stata la mia Matildona, la mia vita sarebbe stata diversa? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, non avrei mai immaginato che avresti conosciuto i miei bambini, eppure hai svolto magnificamente anche il ruolo di sorella maggiore. Hai donato loro l'esperienza di un amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo aver detto addio per l'ultima volta, ho cercato di spiegare a Leo che eri volata in cielo e ci avresti protetti da una nuvola lassù. Lui mi ha chiesto come avremmo potuto riconoscere quella nuvola, così da poter salutarti anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io ho sempre sentito il tuo. Mi mancherà tutto di te, Mati. Ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba. Matilda, il cane di Chiara Ferragni, aveva conquistato un seguito di 400.000 followers. Anche il marito di Chiara, Fedez, era affezionatissimo a lei, così come i figli della coppia, Leone e Vittoria. Matilda era diventata una vera star del web, con il suo account personale che contava quasi 400.000 followers. Ogni cosa che coinvolgeva Chiara Ferragni sui social diventava un successo. Nel 2020 a Matilda fu diagnosticato un tumore. Settimane di angoscia e preghiere per Chiara e Fedez, temendo il peggio, ma fortunatamente l'animale rispose bene alle cure, migliorando le sue condizioni e sopravvivendo. Prima venne ricoverata dal loro veterinario di fiducia a Milano, poi fu portata a Zurigo, in una clinica specializzata, dove fu sottoposta a radioterapia. Alla notizia della morte di Matilda, Chiara è stata sommersa da migliaia di messaggi di sostegno e affetto da parte dei fan. VIP e non VIP hanno fatto sentire la loro vicinanza, raccontando anche le loro storie private di amore incondizionato verso gli animali, comprensivi dello stato d'animo di Chiara in questo momento difficile. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.